Sabato 23 marzo alle 16 è stata inaugurata la sala dedicata alla gnomonica presso la Biblioteca Comunale di Valdobiadene, omaggio ad Abate Giovanni Battista Follador, nativo del luogo e titolare della Cattedra di Matematica e Meccanica al Seminario Vescovile di Padova. Gnomonisti Trevigiani è un'associazione che si è costituita proprio dopo un seminario che è stato fatto nel 2017 qui a Valdobiadene presso Palazzo Piva con l'obiettivo proprio di realizzare questa sala e ampliare la cultura delle meridiane e la scienza degli orologi sociali in un comune come il nostro dove abbiamo ben 56 meridiane che puntellano il territorio e che ha dato in Natalia la Batte Follador. Quindi un'associazione che è stata costituita appunto con questo obiettivo e che ha la volontà di creare sinergia con altre associazioni, enti, scuole, una natura anche didattica proprio attraverso la scienza degli orologi solari. La sala, ricca di libri e strumenti solari, testimonia la passione di Follador per l'agnomonica, la scienza degli orologi solari e l'eredità lasciata alla sua comunità. L'idea è partita già nel 2017 quando abbiamo fatto qui a Valdobiadene il ventunesimo seminario di gnomonica e da lì è praticamente un incontro che fanno tutti gli gnomonisti italiani una volta ogni 18 mesi, si trovano per confrontarsi sulle loro ricerche, i loro studi, gli strumenti che hanno eventualmente pensato. Quell'anno è arrivata qui proprio a Valdobiadene e è diventata praticamente motivo per far partire anche dopo non solo il progetto di questa sala di gnomonica ma anche tante altre iniziative. Quindi è lì che è nata l'idea. Dopodiché c'è stato anche il Covid di mezzo e siamo arrivati praticamente all'inaugurazione quest'anno. E cosa si farà dentro questa sala? Allora, intanto questa sala sarà aperta come una normale sala della biblioteca, quindi aperta al pubblico che entra, che è curioso di conoscere questo mondo, il mondo delle meridiane, della gnomonica. Ci sono dei pannelli esplicativi didattici che presentano per grandi linee di che cosa tratta questa scienza. Per curiosità uno può guardare, poi ci sono i libri, gli strumenti per poter approfondire. Quindi una cosa, come dire, che vuole aprire una finestra sul mondo delle meridiane e anche senza la presenza di un esperto che possa illustrare. Dopodiché, se c'è la richiesta, allora noi diamo la disponibilità per le scuole, per studenti che vogliono entrare, che vogliono essere guidati, diciamo, in una visita. Allora siamo anche disponibili, però, voglio dire, uno che entra, che conosce per la prima volta questo mondo, è in grado già di approcciarsi, di capire di che cosa si parla. E poi può anche cercare di rispondere alle sue domande, alle sue curiosità già qui. Ci sono i libri che sono stati donati, ci sono gli strumenti e appunto questi pannelli didattici che aiutano, diciamo, ad avvicinare anche il profano a questa meravigliosa scienza. Per arrivare e per portare avanti questo progetto, siamo un gruppo di gnomonisti trevigiani, veneti, diciamo, che si sono messi insieme per, come dire, unire le forze e arrivare alla realizzazione di questo progetto. Abbiamo formato un'associazione per questo motivo. Adesso, fatta l'inaugurazione, uno dei prossimi nostri interventi o iniziative sarà quella di fare un incontro proprio qui, un po' più mirato, diciamo, sulla gnomonica. Questa sera presentiamo la sala e andremo più nel dettaglio circa i contenuti, le idee che questa scienza propone. E lì, allora, apriremo anche l'associazione a nuove iscrizioni, a nuovi soci, perché noi siamo così un gruppo, diciamo, di esperti e di appassionati che si sono messi insieme per questo motivo. Ma vogliamo sperare che questo sia un punto di partenza e che arrivino nuove forze e giovani, diciamo, interessati a questa forma anche di arte, oltre che di scienza.